Con lo switch off in Sicilia Tele One passa al canale 16. Oggi toccherà a Trapani per continuare a vedere i canali, dopo lo switch off è infatti necessario effettuare la risintonizzazione del proprio televisore, un aggiornamento che i più moderni televisori effettuano in automatico o quando la tv è spenta. Per la maggior parte dei modelli è comunque necessario effettuare manualmente quest'operazione, bastano davvero pochi passaggi, occorre entrare nel menu, selezionare la voce impostazioni ed effettuare la sintonizzazione che può essere avviata in modo automatico. Potrebbe essere necessario in alcuni casi rivedere anche il sistema di ricezione, l'antenna o lo stesso televisore. Molti sono compatibili con il nuovo formato da oltre 10 anni. È possibile verificare se il proprio televisore è idoneo provando a vedere i canali già disponibili in HD, ad esempio il 501, il 505 e il 507 delle tv nazionali. Per eventuali segnalazioni i telespettatori possono inviare una mail a info-teleone.it o inviare un messaggio whatsapp al 391 117 68 72.